Però dopo, al ritorno, avevo caricato un po' Montero. No, 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 Montero è... Quindi la partita, Bari, Juventus, Necruz. Cosa hai sentito quando ti avessi un dito? Inizia la partita, tocca Necruz e la prima palla mi dà una botta sui coglioni, da sotto. Ma dico, ma che giro? Ma stai scherzando? Ma che stai a fare? Tutta la partita, a fine primo tempo, all'IPI, mi chiesto, mister, tirami fuori, se no gli do una comitata, mi continuo a toccare le palle, tutta la partita così. Però dopo, al ritorno, avevo caricato un po' Montero. A un certo punto, su un angolo, sento... ...te necruzzi.